Rainer Lov GitHub È tutto così, eh? Oggi sto pure a tremila Perché non si vede? Ma pure voi non è che state tanto meglio. L'altro giorno con mia madre siamo andati da Auronix. Abbiamo comprato il secondo frigorifero, che non sapevamo più dove cazzo mettere i calamite. Che c'hai dai calamite? Invece che mio padre è andato in pensione e ora sta tutte le mattine a casa e mia madre tutte le mattine va andando a comprare pane. 12 rosette. Sì, ma una volta. Poi c'ha pure un fratello. Mi fratello non è che fa ride. C'ho un fratello che va vestito al contrario di me, tutto elegante. L'altro giorno si è presentato a casa in giacca e cravatta. Mi fa... Dice, oh, mi so comprato la Toyota nuova. Pensa, c'ha pure i sensori di parcheggio. Dico, ammazza, pure la Toyota se so' accorti il sen co***o a parcheggià. Scusate che rito pure io e che io so' pure quella dopo, allora... Dice, è la serata dell'amore. Di una battuta sull'amore. Dice che è la prima volta, non si scorda mai. Chissà, scorda, gli ho lasciato 300 euro. E comunque, mi cognata è carissima. Bella, Claudio! Bella, Claudio! Claudio Scia...